Io sono perito chimico, diplomato all'Istituto Industriale di Savona, anni 61-62 e sono entrato a Ferrania in febbraio del 1967 dopo due colloqui. Al primo colloquio mi hanno proposto un'attività esterna nel settore fotografico, poi al secondo però il settore non era più quello fotografico ma radiografico ed era un'attività di laboratorio. Avevo fatto il militare, avevo terminato il militare, poi non avevo trovato subito lavoro, avevo fatto in ultimo, proprio nei mesi precedenti all'assunzione a Ferrania, un'attività in uno studio che propagandava rimpianti di aria condizionata, mi ricordo. Dopodiché i primi di febbraio, cioè a gennaio mi hanno chiamato a Ferrania e poi dal primo febbraio ho iniziato il mio lavoro a Ferrania. Ho avuto due colloqui, il primo colloquio è stato quello per un'attività esterna nel campo fotografico, quindi io quando mi sono alzato dal colloquio non erano colloqui molto specifici, evidentemente in quel periodo Ferrania assumeva molte persone, per cui forse avevo fatto buona impressione, mi ricordo anche la persona che mi aveva, che era il responsabile dell'area tecnica del fotografico, non mi aveva fatto delle domande specifiche, per cui su un'impressione che avevo dato lui mi aveva detto che c'era questo lavoro. Poi al secondo colloquio invece mi si presenta un'altra persona e mi dice che io invece dovrei fare un'attività di laboratorio in un settore che non era quello fotografico ma radiografico. A quel punto io sono rimasto un po' deluso, devo dire, però ero sicuro che un lavoro a Ferrania potesse essere una soluzione per me in quel periodo. Penso che tra il primo e il secondo colloquio siano intercorsi all'incirca due settimane e tutto questo, cioè l'assunzione dal primo colloquio, le domande le avevo fatte in precedenza, sarà passato poco meno di un mese perché poi il primo febbraio, come dicevo, ho fatto il primo giorno di lavoro. Non ho avuto nessuna spinta, cioè nessuno che mi ha fatto pensare a lavorare a Ferrania, però quando si è presentata l'occasione ho accettato anche perché io sono nato a Carcare per cui conoscevo la realtà di Ferrania dal punto di vista del lavoro, poi avevo un fratello che lavorava anche in Val Bormida per cui i primi tempi ci potevamo organizzare per raggiungere le due sedi diverse di lavoro. Mi ero fatto l'idea di un posto sicuramente interessante, subito perché avevo velatamente una passione anche per la fotografia, anche se poi il mio lavoro non è stato nel campo fotografico ma nel campo radiografico, però c'era comunque un desiderio di entrare in quel tipo di industria, anche se era un'industria chimica, però chimica fotografica, questo mi interessava. Parliamo di anni in cui Ferrania, lo saprete, c'erano 4 mila persone quasi a lavorare. Vorrei segnalare solo i primi ricordi che ho di quei primi mesi, proprio di quei primi giorni, non i primi mesi. Tanto era febbraio per cui neve altissima, andavo in treno, le passeggiate dalla stazione a raggiungere Ferrania, la neve è anche altra 70-80 cm. Poi la seconda cosa che mi aveva impressionato come esperienza di buon lavoro era questa massa di gente che alle 5 di sera usciva dallo stabilimento e si buttava sugli autobus per raggiungere le località. E poi il terzo, stranissimo, è una sensazione che ho avuto nelle camere oscure quando aprivamo le scatole delle pellicole. C'era un odore caratteristico che mi è rimasto nel naso, perché c'era la cellulosa assieme ai solventi dell'emulsione, per cui mi è rimasto impresso questo odore. Questi sono proprio i primissimi ricordi che ho di quello stabilimento e di quel lavoro. Mi ricordo che era intanto il primo giorno di lavoro e come dicevo eravamo aggregati al reparto di controllo di qualità, quindi eravamo 7 persone in questo gruppo. Questo gruppo si chiamava DSAT del settore radiografico, che vuol dire divisione sperimentale e assistenza tecnica. Evidentemente stavano creando un nuovo servizio tecnico per il settore radiografico. Mi ricordo che in questo laboratorio noi non avevamo delle scrivanie, ci allocavamo in sale normali, oltre alle camere oscure chiaramente, non avevamo un posto di lavoro fisso. Però questo laboratorio dopo pochi mesi viene trasferito, e questo credo sia molto importante da segnalare, trasferito in un'altra palazzina nell'area dove si facevano i prodotti chimici. In questa nuova palazzina avevamo un vero e proprio laboratorio, perché al piano terra di questa palazzina avevamo al lato sinistro tutti gli uffici, al lato destro una sala riunioni, cioè il nostro servizio finalmente prendeva forma, la sala riunioni tra 4 camere oscure dove c'erano le sviluppatrici, tutti i prodotti che servivano per fare dei test di laboratorio, e credo che questa fosse la cosa innovativa per il nostro settore a Ferrania, una vera diagnostica radiologica. Cioè hanno installato ex novo una diagnostica Siemens con un tubo radiogeno, un tavolo e il generatore di corrente. Ovviamente lo scopo di questa sala, per la prima volta a Ferrania, era di riprodurre le condizioni di lavoro di un ospedale, chiaramente non su pazienti, perché noi facevamo degli esami, ma li facevamo su dei fantocci, ossa vera immerse in plexiglass. Per cui noi potevamo, e questo è stato ciò che mi è servito tantissimo per la mia crescita professionale, perché noi potevamo correlare tutto ciò che facevamo sulle pellicole dal punto di vista fotografico, cioè sensitometrico, calcolare contrasto, sensibilità, densità minima, densità massima, con poi una prova pratica, che poi era quella che giudicava poi in pratica il radiologo. Quindi questo nuovo laboratorio aveva una funzione veramente innovativa nel settore radiografico, perché non esisteva a Ferrania, se non nell'infermeria, un tubo radiogeno. Ovviamente stiamo parlando di un periodo in cui ero in laboratorio, non ero sul campo per avere dei giudizi anche dal radiologo. Noi abbiamo imparato a valutare la qualità dell'immagine su un'immagine non clinica, ma clinica era, vero? Dal punto di vista fotografico, non certamente dal punto di vista clinico, anche perché queste ossa non avevano delle patologie, ma assorbivano i raggi X come li assorbono i pezzi anatomici reali, un cranio vero, avevamo il cranio, le mani, i piedi, l'addome, tutti i pezzi anatomici del corpo umano. Quindi noi valutavamo come dei fotografi delle immagini radiografiche e le correlevamo, come dicevo, con gli aspetti prettamente fotografici. Ovviamente, dato che noi eravamo deboli sul mercato, avevamo dei riferimenti. In questo caso erano i concorrenti più importanti del mercato che erano Kodak, Akfa in quel tempo, Dupont e Fuji, questi erano i 3-4 concorrenti più importanti che avevano poi una market share più alta sul campo, perché noi la 3M e Ferrania in quel periodo avrà avuto il 12% della market share, quindi molto debole, mentre Kodak avrà avuto come minimo il 30-35, poi se lo dividevano gli altri, il restante. Quindi quello che mi mancava, che ci mancava probabilmente, era proprio il contatto con la parte esterna. Noi non avevamo alcun contatto con i radiologi, se non settimanalmente una riunione che facevamo, che era indetta dalla produzione, sui reclami. A questa riunione reclami dove noi ricevevamo i problemi riscontrati dal cliente, analizzavamo la produzione, la ricerca, il controllo di qualità e noi canalizzavamo questi reclami, però noi non avevamo un contatto con l'utente e questo credo che fosse una grossa mancanza per un laboratorio che si chiamava in quel momento DSAT, Divisione Sperimentale Assistenza Tecnica, perché non avevamo il feedback di quello che era l'occhio clinico, non l'occhio fotografico, come potevamo avere noi. C'era un capo laboratorio, ovviamente c'era una segretaria amministrativa, poi c'erano degli operai, che poi sono diventati impiegati, che si occupavano della parte più manuale e poi eravamo 3-4 tecnici, quindi 3-3-6-8 persone più o meno all'interno. di questo laboratorio. Era un lavoro d'equip nel senso che andavamo intanto tutti d'accordo, devo dire, non ho particolari ricordi di quei momenti, di frizioni con altri colleghi, per cui è stato tutto molto, è tutto corso molto liscio in quel periodo di laboratorio. Ognuno però si occupava, qualche volta, dato che c'erano pellicole un po' diverse, per esempio. Allora, a quei tempi, poteva essere che uno si occupasse più di una pellicola senza schermi, piuttosto che di una pellicola doppia emulsione, cioè in funzione dei tipi di pellicola che avevamo. Però non abbiamo mai fatto delle… non c'era una gerarchia all'interno, al di là del capo laboratorio, all'interno nostro, non c'era nessuna gerarchia, eravamo tutti… facevamo tutti lo stesso lavoro, in pratica. Chi pioveva bene, insomma, però tutti lo stesso lavoro, sicuramente. La prima attività di laboratorio, che è durata più o meno un anno e mezzo, consisteva in fare dei test fotografici e fisici delle pellicole che venivano prodotte a Ferrania. Noi avevamo a Ferrania, dunque, un tavolo radiologico, un tubo RAGX. È interessante notare che nella formazione di un'immagine radiografica, i componenti dal punto di vista del mercato, delle vendite, erano due i fabbricanti più importanti. Uno era quello che vendeva l'attrezzatura radiologica, l'altro era quello che vendeva il film e il trattamento. Quindi noi, come Ferrania, eravamo fabbricanti di materiale sensibile, quindi ci occupavamo della parte a valle del paziente. Tenendo conto, però, che nella radiografia, sotto il paziente, si sono fatte all'inizio, ma negli anni Sessanta e poi a seguire, l'immagine fotografica che ne scatturisce è legata a uno schermo di rinforza, un sale che deve rinforzare l'energia radiante, trasformarla in luce per sensibilizzare il film. Quindi all'interno della cassetta c'era un altro componente estremamente importante che era lo schermo di rinforzo, che Ferrania però in quel momento non produceva. I test quindi che facevamo erano rivolti principalmente a test fotografici e fisici. Dico fisici perché? Perché c'era intanto sul mercato i primi trattamenti automatici, cioè le pellicole venivano sviluppate in macchine, a rulli ovviamente, che si sviluppavano da 3 minuti e mezzo a 90 secondi, cioè il trattamento manuale oramai era stato accantonato ed era nato il trattamento automatico. La pellicola di Ferrania di quando io sono entrato era stesa su supporto intriaccettato e il supporto intriaccettato era molto debole in questi sistemi automatici, per cui i test fisici che facevamo all'interno del laboratorio erano quasi più importanti dei test fotografici, perché bene o male dal punto di vista fotografico potevamo competere con i maggiori concorrenti, però dal punto di vista fisico se la pellicola quando entrava in sviluppatrice poi non usciva o asciugava male o si rigava era un problema e quindi noi abbiamo avuto enormi difficoltà per superare questo unpass, che l'avremmo superato solamente dopo un paio d'anni, un anno e mezzo forse, perché poi facemmo il supporto in poliestere a Caserta, nello stabilimento che Tremme aveva aperto a Caserta. Quindi i test erano questi di laboratorio, con l'intendimento, ripeto, di fare pratica sulla valutazione della qualità d'immagine clinica e fotografica dal punto di vista tecnico del laboratorio. Questo lavoro a me non piaceva perché io da tempo stavo dicendo ai miei superiori, ma quando è che cominciamo a… noi non potevamo starcene ad avere un contatto esterno indiretto solamente perché il venditore ci portava un reclamo o perché arrivava un reclamo settimanalmente e ne arrivavano molti in quel periodo, senza avere il feedback diretto dell'utente. Per cui io dopo un anno e mezzo, esattamente me lo ricordo perché era in luglio del 1968, io un giorno prendo e parto, vado a Roma, vado a fare un colloquio per una dita farmaceutica e questi mi assumono. Io torno a Ferrania, vado dal mio superiore e gli dico guardi io da settembre sto a casa, vado in un'altra azienda, oltretutto era per l'area di Savona, in una dita farmaceutica molto importante per cui io ero ben contento di cambiare lavoro. E lui mi disse, mi dia tempo due settimane perché stava maturando questo servizio di persone all'interno del laboratorio, non solo io ma anche altri, che avrebbero dovuto supportare i clienti sul campo. Dopo due settimane io ero in Veneto, Veneto e Emilia Romagna, sono state le mie prime due settimane che ho fatto sul campo, quindi io avevo colleghi venditori che mi portavano agli ospedali, potevo vedere sul campo veramente come fosse organizzato un reparto di radiologia, perché noi non potevamo immaginare quello che realmente faceva un tecnico di radiologia, un radiologo o un fisico sanitario, perché poi apparivano anche i fisici sanitari a quei tempi. Per cui è stato uno stravolgimento del mio lavoro, con enorme piacere da parte mia, perché io passavo il 50% del mio tempo sul campo, stavo in giro una settimana, l'altra settimana stavo a Ferrania e avevo i miei contatti con i venditori che mi chiamavano se avevo bisogno, così come me, però anche altre persone, devo dire che c'erano anche altre persone, infatti c'eravamo un po' divisi l'Italia, io facevo prevalentemente il nord-est, l'Emilia Romagna, le Marche, mi ricordo altri facevano il centro-sud, altri la Lombardia per esempio, per cui il lavoro è cambiato radicalmente. La cosa più interessante per me in quel periodo è stata proprio quello che dicevo prima, la possibilità nel momento in cui hai da risolvere, se tu hai da risolvere un problema tecnico e lì non c'è problema, il cliente è arrabbiato, tu devi risolvere il problema, ma nel momento in cui tu devi valutare un'immagine, perché poi noi facevamo anche delle, tentavamo di vendere anche con il venditore, allora lì era il momento in cui sul negatoscopio si dovevano valutare le immagini dal punto di vista clinico e io ero un po' preparato, però non ero certamente all'altezza di competere con dei radiologi che avevano un'abitudine giornaliera a leggere un sacco di immagini cliniche, per cui ho imparato tantissimo in quel periodo, perché ho capito intanto il linguaggio loro che è totalmente diverso dal nostro, ma solamente mettere la radiografia sul negatoscopio, se io metto la radiografia sul negatoscopio col cuore all'opposto, il radiologo mi guarda con un'aria e mi dice, ma questo tu non capisci niente, allora la prendeva la girava, ti faceva subito capire che tu non capisci, che tu non sai qual è il meccanismo, quindi ho imparato tutte queste cose a forza di stare sul campo e a forza di parlare con i radiologi e i tecnici e poi tutto il processo, tutto il flusso di lavoro che c'è, la diagnostica che fa lo scheletro, la diagnostica che fa il torace, questo è servito tantissimo, perché poi quando parleremo di quelle che sono state le innovazioni di 3M, si vedrà come queste sale diversificate siano state poi ideali per vendere meglio i nostri prodotti. Noi quando eravamo all'interno del laboratorio ci rendevamo conto che avevamo una piccola fedda del mercato, ma perché avevamo prodotti deboli e pochi anche. Dopo due anni abbiamo messo in campo una sviluppatrice automatica, quindi 68-69 abbiamo commercializzato una sviluppatrice automatica e direi che la cosa più importante che emerge poi dopo è quello che succede poi all'inizio degli anni 70 e qui c'è infatti una pietra miliare che bisogna sottolineare di quello stabilimento, perché è una scoperta fatta a Ferrania, da personale della ricerca di Ferrania che ha dato una svolta al mercato radiologico di quegli anni e sto parlando di un sistema Trimax, 3M Trimax. Questo sistema, questi ricercatori cosa avevano fatto? Avevano studiato diverse fosfori che sono i componenti che devono convertire raggi X in luce e mi ricordo che loro avevano messo, ed era una fotografia che la facevamo per ascioccare anche l'uditorio, in questo caso non erano esteri ma erano diciamo team interni, dove tante polverine sulle citate regi X che avevano uno spettro diverso, da rosso a verde eccetera. Tra questi ne scelsero uno, queste persone, questo laboratorio, che era un fosforo alla terra rara, l'ossiosolfuro di gadolinio. Questo ossiosolfuro di gadolinio si è messo in concorrenza con un stato di calcio che era il fosforo utilizzato per fare gli schermi di tutte le ditte di quel tempo, cioè tutte le ditte che fabbricavano schermi, usavano il tungstato di calcio che metteva luce blu violetta, al contrario di questo sale che metteva una luce giallo verde, 550 nanometri mi pare di ricordare. La cosa che era eclatante qual'era però? Era che questo aveva un'efficienza settimana sette volte maggiore del tungstato. Questo si traduceva in una cosa fondamentale che era quella della riduzione della dose al paziente. Quindi questo è stato uno smacco per tutti i nostri concorrenti. Nessuno aveva mai utilizzato e nessuno aveva mai scoperto l'ossiosolfuro di gadolinio come fosforo per fare degli schermi di rinforzo. Da quell'anno lì Faraglia cominciava, parlo del 73 più o meno, tutta una linea di prodotti nuovi che erano schermi di diversa rapidità e qui si ricollega a quello che dicevo prima, c'era lo schermo ad alta definizione usato per lo scheletro, lo schermo ad alta sensibilità usato per il tubo digerente e così via, uno schermo intermedio per lo scheletro di grandi spessori, il cranio piuttosto che le ginocchia. Quindi tutti questi schermi di rinforzo potevano essere utilizzati nelle diverse sale di diagnostica. C'era una forte componente di educazione per gli utenti, perché l'utente non era abituato a dire io qua uso uno schermo, là un altro, il tecnico di radiologia vuole essere pratico nel suo lavoro, non deve pensare. Però noi ne abbiamo istruiti piano piano e alla fine il radiologo non poteva non accettare questa soluzione. La dose veniva ridotta quasi a 8 volte. Negli anni 60 nascono due nuove specialità nella radiologia, una è l'angiografia e l'altra è la mammografia. La mammografia addirittura ha dovuto, per fare un esame della mammella adeguato, c'è stata una ditta che ha studiato un'apparecchiatura radiologica specifica per la mammografia, che era una ditta francese che si chiamava CGR, Compagnie General de Radiography, che poi è stata assorbita dalla General Electric e ha introdotto nel 1968 il primo mammografo. In questo mammografo per dire, dato che la mammella è un organo che non ha densità, bassissimo contrasto e ha bisogno di un'altissima risoluzione, si usava una pellicola senza lo schermo di rinforzo, quindi con delle dosi molto alte. La stessa cosa per l'angiografia, in modo diverso. L'angiografia prevedeva che si fosse iniettato al paziente del mezzo di contrasto, poi un caricatore automatico con 30 film viaggiava velocemente tra gli schermi di rinforzo in una macchina apposta e seguiva il percorso del mezzo di contrasto su lastre diverse. Quindi c'era una sequenza di 30, esposizione al paziente per poter vedere il mezzo di contrasto nelle sue arterie. Quindi è venuto ad hoc avere un sistema Trimax laddove la dose diventa un elemento essenziale per la radiografia. E quindi il Trimax in quegli anni lì ha spopolato proprio per questo motivo, perché l'utente, il radiologo, ma anche poi anche il paziente stesso già era iniziato a pensare che la dose, le raggiche erano dannose, quindi si doveva tenere una dose bassa. Infatti fu coniato a quei tempi, mi ricordo un acronimo che è ALARA negli Stati Uniti, che vuol dire as low as reasonably achievable, in pratica alla più bassa dose possibile e questo acronimo è ancora utilizzato oggi con la TAC e con la mammografia proprio. Quindi il Trimax che nasce nei primi anni 70 trova un terreno fertilissimo perché l'opinione pubblica è sensibilizzata la dose e noi lì esplodiamo. Esplodiamo negli anni 70, tanto che l'incremento a fine anni 70 sul campo italiano era una percentuale del 30% a fine anni 70. Siamo passati, ma non solo in Italia, perché poi anche in Europa, perché poi noi ci muovevamo anche come gruppo, come dicevo prima, in Europa, per cui anche in Europa la market share è salita intorno al 25%. In Italia è arrivato anche dei punti, anche del 40 secondo me, perché poi proprio avevamo raggiunto, tutti i venditori avevano questo strumento, erano dei bravi venditori devo dire. Dopo qualche anno Kodak ha iniziato, ha bypassato credo il brevetto facendo un mix di gadolino lantanio, quindi luce verde e luce blu, però poi dopo, parliamo dei 73 come dicevo prima, dopo dieci anni tutti gli schermi erano tutti allo stesso furo di gadolinio comunque. Di tutte le ditte, anche chi non ha mai fatto pellicole, ma Kodak, Akfa, Fuji, tutti hanno usato la formula. Ecco perché ci tengo a sottolineare questa cosa, perché Ferrania, i ricercatori di Ferrania hanno fatto questa grande scoperta negli anni 70 e che è stato la tocca sana per lo stabilimento. Alla fine degli anni 70 eravamo market leader in Italia e tra i primi market leader in Europa, quindi gli anni 80 che si sono… e poi abbiamo avuto un'altra intuizione che volevo segnalare dal punto di vista tecnologico. Nel 1978, 3M però qui in questo caso fu la ricerca negli Stati Uniti che fece questa scoperta, scoprì che all'interno i meccanismi che regolano l'esposizione all'interno di una cassetta, dove c'è una pellicola bi emulsionata e due schermi di rinforzo, si crea un meccanismo di luce che si interseca, lo schermo anteriore e lo schermo posteriore mettono luce, per cui c'è una diffusione della luce all'interno dello strato di gelatina e dell'argento. Questa diffusione deturpa l'immagine. Nel 1978 gli Stati Uniti scoprono un sottostrato colorato da mettere tra l'emulsione e il supporto, quindi emulsione, strato colorato, supporto, strato colorato, altra emulsione e questo filtro diminuisce l'effetto crossover della luce, aumenta la qualità dell'immagine. Quindi siamo arrivati agli anni 80 con un pacchetto di prodotti completi, perché nel frattempo sono state sviluppate anche attrezzature, il nostro gruppo non più era composto da persone che si occupavano di soft goods, di film, ma c'era gente che si occupava di macchine, di attrezzature, perché negli anni 70 qualcuno come DuPont aveva iniziato a lavorare per migliorare il processo di carico e scarico delle cassette nell'ambito della camera oscura, cioè il tecnico era costretto in funzione dell'organizzazione dell'ospedale a manipolare queste cassette radiografiche. In un reparto di radiologia ci possono essere 20 diagnostiche e due camere oscure che manipolano un sacco di cassette, per cui l'automazione poteva essere una cosa molto utile e oltretutto se fatta poi in completa condizione di luce, cioè eliminazione della camera oscura, per cui 3M dopo DuPont e Kodak ha introdotto anch'essa un sistema che si chiamava Trimatica a quei tempi che consentiva il carico e scarico automatico delle cassette. La cassetta veniva caricata, scaricata, scaricata e caricata e introdotta nella sviluppatrice, per cui tutto veniva fatto in condizioni della luce. Quindi arriviamo agli anni 80 come gli anni 80, delle vacche grasse di Ferrania, in virtù di un portafoglio prodotti completo. D'altro canto c'era un'altra cosa che stava avanzando, perché a fine anni 70 è introdotta la prima TAC, l'angiografia da analogica è diventata digitale, sto parlando delle fine anni 70, quindi poi gli anni 80 sono determinanti, gli ultrasuoni entrano anch'essi nella radiologia e si comincia a creare all'interno della radiologia una nicchia di modalità specialistiche che sono elettroniche, se non le vogliamo ancora chiamare digitali. Per cui queste diagnostiche devono ancora confermare la loro validità clinica, però intanto stanno intaccando magari dei numeri di esami di RX convenzionali. Se si ricorda una volta si facevano delle urografie, dopo qualche anno che è nato l'ultrasuono l'orografia è stata cancellata, per cui si faceva l'ultrasuono e allora c'è stata comunque questa componente di metodiche digitali che cominciano a parire negli anni 80. Una cosa che volevo ricordare era anche, forse molto interessante, era quella che a Ferrania negli anni 80 avevamo anche un metodo di lavorare che poi aveva valorizzato molto il nostro lavoro del gruppo. Intanto a Ferrania ogni anno, forse qualcuno se non sbaglio l'aveva detto, si facevano i technical audit. Il gruppo delle ricerche presentava al top manager di 3M che venivano da St. Paul i progetti di ricerca che avevano in atto. Se la presentazione aveva esito positivo queste persone investivano in quel progetto e ci davano i soldi per poter portare avanti un progetto. Ma il processo di commercializzazione era molto interessante del prodotto, perché si doveva intanto fare, noi eravamo molto coinvolti come servizio tecnico, si doveva fare un documento che si chiamava parte A, si doveva descrivere assieme al marketing, questo lo facevamo assieme al marketing, le caratteristiche che questo prodotto doveva avere. Conoscendo la concorrenza, perché un'altra cosa che Ferrania ha sempre fatto è stata quella di dare spazio all'analisi della concorrenza, conoscendo la concorrenza con la conoscenza del mercato che si aveva, si poteva dire questo nuovo film, questo nuovo sistema deve avere queste caratteristiche, la parte A del documento. Dopodiché il laboratorio cominciava a lavorare su questo progetto e c'era una prima riunione che veniva indotta che si chiamava CAM, Concept Approval Meeting. Se questo prodotto passava al Concept Approval Meeting, voleva dire che passava a una seconda fase, la seconda fase era il Laboratory Approval Meeting, cioè i primi campioni di laboratorio venivano analizzati e studiati, se passavano questo secondo step, si passava al Factory Approval Meeting, cioè vuole dire che lo stabilimento, se era un'emulsione, fabbrica industrialmente assi di questa emulsione e si comincia a fare un field test, un test sul campo e il servizio tecnico in quel caso, che si chiamava a quei tempi, mi ricordo, European Technical Service, era responsabile di seguire questo test sul campo. Quindi c'era questo sistema di commercializzazione molto rigoroso, doveva passare tutte queste riunioni il prodotto per essere commercializzato. Quindi questa è stata un'innovazione che io non avevo mai visto, mi ricordo che per avere delle certificazioni erano venuti degli enti esterni e si erano meravigliati di quella procedura che noi utilizzavamo per commercializzare e fare un prodotto. Il periodo delle vacche grasse significa che abbiamo dei prodotti ormai competitivi, un portafoglio di prodotti radiografici sicuramente competitivo con i migliori concorrenti, abbiamo quella sensazione che ci siano delle nuove modalità che arrivano nella diagnostica per immagini, come viene chiamata adesso, però Ferrania e 3M stanno bene, stanno bene, anche perché arricchiscono ulteriormente il portafoglio, perché queste nuove modalità, gli ultrasuoni, l'attacco, la risonanza, l'angiografia digitale, hanno bisogno comunque di copie ancora, di film. Quindi abbiamo studiato anche un film per registrazione da monitor, che si chiamava CRT, da cathode di light tube. Quindi è un'altra nicchia di prodotto. A quei tempi il radiologo, parlo degli anni 80, non refertava su monitor, refertava ancora su film. Quindi per noi andava bene, perché stampavamo film, perché poi 3M in quegli anni lì fa anche la prima stampante centralizzata, che non c'aveva ancora nessuno. Prima ognuno aveva un, si chiamava multi-imager, un dispositivo dove si facevano le stampe dell'ultrasuono piuttosto che dell'attacco. Invece 3M studiò un laser imager con la sviluppatrice in linea, che poteva ricevere input da tre o quattro modalità, quindi dall'ultrasuono, da un attacco, da una risonanza e veniva stampato il film su infrarosso. Quindi anche negli anni 80, anche con l'avanzamento delle tecnologie digitali, comunque c'è stato questo arricchimento del portafoglio con il laser imager. È stata un'altra cosa, credo, molto importante per Ferrania. All'apice però negli anni 80, sempre per rimanere ancorati negli anni 80, c'è una scossa di mercato nella parte radiografica. Una scossa di mercato che è dettata da Kodak. Kodak introduce una tecnologia che si chiama tabular grain per le emulsioni radiografiche. Era una tecnologia già utilizzata nel campo fotografico da Kodak, che però la trasferisce sul campo radiografico. Questo cristallo tabulare aveva delle prerogative sicuramente interessantissime, sto parlando del 1988, fine anni 80, perché questo cristallo riusciva ad assorbire moltissimo il sensibilitore cromatico dell'emulsione. Cosa succedeva così? Che tutto quello che noi avevamo fatto con un sottostrato colorato con l'XUD, cioè per ridurre il crossover di luce, la Kodak lo faceva con due emulsioni simetriche, senza nessuno strato intermedio. Questo cristallo assorbiva molto sensibilizzatore cromatico, abbassava il crossover e riduceva in maniera abbastanza sensibile la quantità d'argento per metro quadro. Consentiva il trattamento del film anche fino a 30 secondi di trattamento. 30 secondi, infatti si chiamava RA 30, Rapid Access 30. Quindi questo film ha dato una scossa molto importante e Ferrania ne ha pagato le conseguenze negli anni 90. Quello che diceva prima lei dell'apice è legato a diverse forze esterne che hanno creato difficoltà a Ferrania negli anni 90. Prima di tutto questo, io metto questo prima di tutto, ma potrebbe esserci anche quello che dirò dopo. Però il cristallo tabulare sicuramente ha creato dei problemi. Perché? Perché lo stabilimento non riusciva a costruire emulsioni all'interno fuori dal brevetto Kodak. Quindi siamo riusciti a fare un prodotto similare, che noi la tecnologia l'avamo poi chiamata Laminar Crystal Technology, che però era all'interno del brevetto, per cui pagavamo le Royalty a Kodak. Quindi tutto ciò che vendevamo, ed era ancora molto in volume, perché negli anni 80 noi abbiamo raggiunto credo 9-10 milioni di metri quadri a Ferrania. Quindi credo che sia stato il massimo dei metri quadri stesi nello stabilimento di Ferrania come volumi. E invece lì cominciamo ad avere una flessione, perché intanto dobbiamo pagare anche le Royalty a Kodak per questo. Quindi abbiamo delle enormi difficoltà. Oltre al problema del cristallo tabulare dal quale non riuscivamo a uscirne pagando le Royalty a Kodak, c'era l'avanzamento del digitale. Cioè c'era dall'altro campo tutto ciò che si stava creando per sostituire le immagini RX tradizionali. Infatti alla fine degli anni 80 Fuji introduce la computer radiography, che poi si trasformerà con altre ditte in digital radiography e digital radiography, computer radiography, l'affidabilità della risonanza magnetica, dell'attacca eccetera, hanno dato un colpo enorme agli esami tradizionali, che erano quelli su cui noi contavamo. Per cui c'è stata una flessione. Nel 1992 ci fu ancora un tentativo da parte di Trem, se non ricordo male, per assumere persone alla ricerca in grado di trovare delle soluzioni. Ma le soluzioni non vengono solo da un ricercatore. Secondo me arrivano dal mercato, arrivano dal marketing. E forse lì è stato il marketing che non ha saputo dare gli indirizzi giusti ai ricercatori, perché si stava spostando tutto il lavoro sul digitale. E i venditori, mi ricordo i venditori, che per quello che dicevo prima potrebbe essere utile anche a un venditore, perché il venditore spingeva, voleva la computer radiography, sapeva. Kodak l'ha commercializzata, prima fuci, poi Kodak, poi Akfa. Gli unici che non l'hanno commercializzata è stata 3M e poi i Meshon anche. Quindi nessuno si è preoccupato di gestire il portafoglio che si stava modificando per effetto della digitalizzazione delle radiologie e degli ospedali. Per cui 3M non fu in grado o non ha voluto forse commercializzare sistemi digitali in radiologia. L'unica cosa che fece e di nuovo qui ha avuto una grandissima intuizione, era quella del sistema 3M Drive View. Cioè finalmente una stampante che non aveva bisogno dei prodotti chimici, ma che si sviluppava. Una pellicola trasparente, perché ancora nei primi anni 90 il radiologo voleva sempre refertare su un'immagine, sul legatoscopio. E 3M con il 3M Drive View, e sto parlando del 1995 esattamente, introduce questa cosa qua che tutti e tutti sono spiazzati. Perché tutti avevano bisogno di sistemi su carta che non erano all'altezza dal punto di vista qualitativo. Oppure sistemi sviluppati con i prodotti chimici. Tutti volevano eliminare la camera oscura i prodotti chimici. E noi invece volevamo con quel prodotto lì dare proprio la garanzia che tutta la radiologia poteva essere senza chimica. A decezione però devo dire della mammografia. E qui vorrei anche aprire una piccola parentesi che riguarda la mammografia che fino al 2000 ha resistito come sistema analogico. Infatti negli ospedali più importanti dei mercati sofisticati, quelli occidentali, tutta la radiologia era digitale ad eccezione della mammografia che utilizzava ancora il film e il prodotto chimico. Proprio perché la qualità che dava a quei tempi era nettamente superiore a quella che poteva offrire una computer radiografia, che è stato il primo sistema che si è poi dedicato anche alla mammo. Non c'era ancora un sistema digitale che nascerà nel 2000, che è commercializzato da GE, dalla General Electric, che invece diventa un sistema di direct radiology, cioè di digital radiography insomma. E allora quello qualitativamente sarà all'altezza e piano piano sostituirà tutta la parte mammo analogica. C'è stato un primo spin-off che è stato quello, quando dicevo prima che nel 1995 abbiamo commercializzato il DriveView, la Kodak era molto invidiosa per questo, perché aveva una tecnologia 3M che Kodak non aveva e cercava in qualche modo di acquisirla, anche se non poteva. E allora successe una cosa che, perlomeno all'interno del nostro laboratorio, eccetera, avevamo subdorato. Nel 1996 c'è lo spin-off di Emation, cioè 10.000 persone si staccano da 3M, 3M a quei tempi contava, ancora adesso credo conti 90.000 dipendenti nel mondo, 10.000 si staccano, che era tutta la parte di materiale sensibile, tutta la parte di Ferrani a materiale sensibile, si stacca, 10.000 persone si formano nel gruppo di Emation, i manager sono tutti entusiasti, noi saremo più snelli, faremo affari d'oro, investiremo nelle cose, invece non fu fatto niente. L'unica cosa che si capiva era che Kodak invidiava la nostra tecnologia di review, perché non aveva un prodotto di quel tipo che era molto utile a quei tempi. Però la considerazione che si può fare anche qui è quella che, mentre gli altri commercializzavano la CR e gli altri fabbricanti di materiale sensibile, la 3M si occupava, e i messi, si occupavano solo dei sistemi di registrazione a valle, cioè non pensavano all'acquisizione, ma solo alla stampa, sì che siamo dei pellicolari come dicevano, però noi avremmo dovuto pensare forse diversamente. Comunque diventiamo Emation e se dopo tre anni poi c'è l'acquisizione da parte di Kodak, vuol dire che il distacco di Emation era qualcosa di prestabilito, infatti le voci che correvano a Ferrani forse si sa e che c'era un contenzioso tra Kodak e 3M, un contenzioso proprio legato, guardi caso, alle pellicole radiografiche. C'era stato sempre dello spionaggio industriale, per cui secondo me con lo spin off in Emation e poi l'accessione della parte Emation Elt, cioè radiografico, a Kodak Elt è il passo inevitabile per sedare quel grosso contenzioso che c'era stato. Quindi Emation, Ferrani e 3M lavoravano gratis per Kodak o no? No, non lavoravano gratis per Kodak, perché in quel tempo lì noi pagavamo le royalties, noi abbiamo poi a un certo punto, ma per un breve tempo, fabbricato anche materiale per Kodak, però poca roba. Il problema lì era che Kodak ormai si voleva impossessare di tutta la proprietà intellettuale di tutti i prodotti, di tutti i clienti e di tutti i venditori di Emation Elt, diciamo della parte radiografica e questo succede nel 1999, quando all'interno di Farania soltanto il nostro gruppo, che era a quel tempo 20 persone, passa in Kodak, però sul campo tutte le vendite, tutti i prodotti, tutto il portafoglio clienti, come dicevo la proprietà intellettuale, passa a Kodak e il nostro laboratorio rimane un anno nello stabilimento di Ferania e noi ci siamo trovati in una situazione molto particolare, perché i nostri colleghi erano i nostri concorrenti all'interno dello stabilimento, noi facevamo una strada segnata praticamente per arrivare in laboratorio, questo l'abbiamo fatto per un anno, tutto il 1999, poi all'inizio del 2001 queste 20 persone che dovevamo essere trasferite prima a Nizza, poi a Stoccarda, hanno stabilito il nostro traghettatore di andare al Porto Antico a Genova e siamo rimasti lì, c'è ancora adesso, è praticamente il centro che non è più Kodak, ma è Kirstream, perché come sappiamo Kodak poi vive le stesse vicissitudini di Ferania, perché io che ho seguito poi gli ultimi anni di Kodak nel 2000, perché poi Shalom chiude nel 2005, Shalom erano ancora 2200 persone nel 2005, l'hanno chiuse, quando è stato chiuso Shalom dopo poco tempo chiudono anche tutto il centro che c'era a Milano di Kodak a Cinesello Balsamo e credo che adesso le palazzine di Kirstream ex Kodak a Genova ci siano 90 persone che lavorano lì in due palazzine, ci saranno 20-25 tecnici e poi c'è tutta la parte amministrativa che è stata trasferita da Cinesello Balsamo a Genova, insomma l'hanno rilocati tutti praticamente, Shalom è chiuso e oramai Kodak Elt, cioè radiografico non esiste più nemmeno quello come Ferania, quindi c'è una similitudine tra le due aziende, c'è uno spin off poi vissuto anche da Kodak che è diventato da Kirstream Allora, il mio punto di vista su quello che si poteva fare l'ho già accenato prima, io credo che quando 3M ha fatto lo spin off ha capito che per rimanere nel mercato, io parlo del radiografico in questo caso chiaramente, ma poteva anche essere fotografico, è che si dovevano integrare delle tecnologie, le tecnologie che si dovevano integrare erano quelle, noi siamo fabbricanti di materiale sensibile, dall'altra parte c'è chi acquisisce l'immagine e dall'altra parte c'è quello che organizza il lavoro, quindi c'erano 3 tecnologie, una di acquisizione, una di visibilizzazione e l'altra di gestione del flusso del lavoro, quindi una società IT, una società, una parte IT, una parte che si occupa di immagine e una parte che acquisisce le immagini, è qui Kirstream secondo me non ha voluto, poi il motivo per cui non abbiano voluto non lo so, però ha staccato, forse i Mason pensava di poter fare questo assemblaggio di queste 3 metodiche, perché poi in quegli anni lì oramai i clienti volevano che tutte le modalità digitali fossero organizzate, il flusso di lavoro fosse organizzato, il PACS, che l'acronimo significa Picture Archive Communication System, è il software che gestisce all'interno della radiologia tutte le immagini, le visualizza, le stampa, le archivia, le trasmette e lì si doveva investire. Io vorrei dire una cosa, io ho portato a Ferrania un amico che lavorava in un'azienda di software per banche e io avevo detto, riflettendo con lui una volta alla spiaggia, mi ricordo un'estate, ma io sono convinto che se tu che ti occupi di software che gestisce, se entri in un reparto di radiologia ti rendi conto di quanto si possa fare con un software in una radiologia, per sveltire il lavoro, per organizzarlo meglio etc., questa persona l'ho sensibilizzata fino a un punto che è venuto a Ferrania a fare una presentazione all'allora direttore tecnico, è venuto a Ferrania a farlo, stiamo parlando di metà anni 90, il PACS era la risposta, il PACS è la risposta di oggi, il PACS è un prodotto oggi che si vende, però nessuno fece niente a quei tempi, magari io ho sbagliato nel mio modo di… però io avevo capito che secondo me lì si doveva fare qualche cosa per la gestione del lavoro in radiologia, poi i software per radiologia sono altri ancora, adesso c'è RIS, Radiology Information System, poi c'è l'IS, Hospital Information System, c'è una parte di software che gestisce tutto il lavoro dell'ospedale dopo la digitalizzazione di tutta la radiologia, quindi secondo me non è stato… ci sarà stato qualcuno che ha obiettato a queste cose, probabilmente sì, poi però hanno desistito, non c'è stato niente, noi eravamo solo bravi, secondo me, come mia conclusione, a fare ciò che riguardava un'immagine su pellicola, al di là di quello noi non abbiamo mai guardato, quindi secondo me ci sarà qualche top manager che ha sbagliato, ma secondo me ha sbagliato il marketing del radiografico, il marketing non quello europeo, ma il marketing mondiale, globale, che doveva capire che la radiologia si stava spostando verso la digitalizzazione e che occorrevano nuovi prodotti, nuovi sistemi per poter rimanere in quel settore, poi tutto quello che abbiamo fatto, dal Trimax al Drive View, al Laser Imager, ai sistemi per migliorare il lavoro in camera oscura, sono tutte cose che noi abbiamo fatto e che si deve fare chapeau a Ferragna per questo, sicuramente, però poi c'è stata questa cosa non fatta per la parte digitale, che è un ramarico. Io ho vissuto proprio tutto il passaggio, ho valutato immagini prima quelle di mammografia senza schermi, poi con lo schermo, poi le pellicole, le prime stampe su digitali, poi su monitor, lo valutate tutte e credo che di aver imparato moltissimo da 3M, 3M secondo me rispetto poi al confronto con Codac, io quando sono andato in Codac avevo paura, perché quando tu fai una fusione, dall'altra parte trovi sicuramente uno che ha una mansione simile alla tua, e io ero convinto che sarei stato falciato fuori in questa fusione, invece quello che io ho notato che noi avevamo a Ferrania, era che noi, mentre Codac aveva il complesso del numero 1, noi invece eravamo persone che eravamo umili, studiavamo tutto, noi conoscevamo i prodotti Codac meglio quasi di loro, li conoscevamo alla perfezione, quando noi siamo stati integrati, io non ho dovuto imparare niente dei prodotti Codac, li conoscevo già come conoscevo i miei, perché noi avevamo sempre fatto l'analisi della concorrenza in modo costante e continuo nel tempo. Io dico che Ferrania e 3M sono state una delle società migliori che mi ha dato sicuramente il massimo delle competenze professionali per resistere, tanto è vero che io non ho sobbuto nessun trauma quando mi sono integrato con Codac, per cui io ritengo, lei sa che le 3M noi le abbiamo sempre definite la mamma 3M, ma è vero, questa società è stata una società che ha veramente, è stata una società innovativa, che seguiva il personale, è stata una delle migliori società, io non posso fare confronto con altre, ma lo posso fare confronto a Codac, non c'è confronto con Codac sotto l'aspetto di quello che è stata la mia esperienza professionale in 3M rispetto a Codac e io adesso andare a Ferrania e vedere quello che c'è lì e non posso più andarci, adesso che non vado a Ferrania saranno 10 anni almeno, tutta questa cosa che hanno fatto per rivalutare per noi, quando nevicava forte non trovavamo le macchine nel parcheggio, perché c'era tutta una distesa di macchine, cioè Ferrania adesso è una desolazione, non so come finirà, però quello che noi abbiamo vissuto è stata una grande esperienza in quella fabbrica e io credo e spero che con questa testimonianza gli aver dato un minimo di idea di quello che quel stabilimento nel settore radiografico abbia dato, perché ricordatevi che negli anni 70-80 il sostegno l'ha dato tutto radiografico con lo stabilimento lì e questo non è molto spesso ribadito, è per quello che io ho accettato anche di dire queste cose.